oggi è diventata probabilmente una delle cose più importanti seguire i social e noi avevamo un equip di ragazzi molto giovani che come hai detto lo abbiamo inaugurato da poco li abbiamo aperto da poco perché non ne sentivamo la necessità prima sbagliando è più giusto così bisogna seguire perché il mondo sta evolvendo sta andando avanti e dobbiamo andare avanti anche noi e io ricordo i primi salovemo per cui nel settembre 71 80 noi facevamo tre interviste tra i 1 tra i 2 un altro canale sono liberi stavamo 5 o 6 giorni senza fare nulla oggi invece c'è un'attenzione diversa si va a vedere alcuni particolari che una volta non non si notavano e questo è essenziale oggi e bravi ragazzi che ci seguono cosa per me non ci capisco niente con il telefono